Ciao raga, come state? Spero bene? Allora, potete capire da questo e dal retro, ormai l'avete capito che ogni volta che ci troviamo qui, parliamo o di capelli o di tutto quel che riguarda comunque questo aspetto quindi ora cosa faremo? Mi farò riccio con i capelli corti. Ebbene, sì raga non so che è stato un trauma per tutti, è stato anche per me questo trauma soprattutto per me. E niente, quindi ora ci andiamo a fare i ricci con i capelli corti che da come vengono, spero bene Ok raga, allora prima di cominciare vi dico sempre che i shampoo che utilizzo sono sempre quelli di pomelo, di cui vi lascio due codici sconto, ovvero Marghe 100 dove avrete uno sconto di 100 euro su una spesa minima di 140 euro e poi Marghe dove avrete uno sconto del 60% su qualsiasi prodotto, quindi Allora raga, la prima cosa che vado a fare è riuscire la testa a fare così con l'asciugamano fino a quando non vedo un leggero risultato Raga, ora metto un po' di sfumasciugolo di fulore e speriamo vengano perché è la prima volta che li faccio corti, quindi boh Ok raga, eccoli, qui mi sono spostata per farvi vedere un po' meglio Ovviamente io essendo liscia neanche chissà quanto definito, però do un po' di movimento e sono carini Raga, a parte il filtro ma oggi proprio sono davvero indecente quindi ecco qui Raga, a parte il filtro ma oggi sono davvero indecente